Un buon inizio di giornata a tutti voi da parte mia e della redazione. Eccoci al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino. Cominciamo dal Consiglio regionale che ha avviato l'iter per l'aumento delle tasse. Il provvedimento si è reso necessario per ripianare il bilancio per i redditi. Oltre la cifra di 28 mila euro lordi, la liquota dell'IRPEF è quella massima pari al 3,33%. Ci aggiorna su questa situazione Pasquale Di Bello. In Consiglio regionale è iniziato l'iter legislativo che porterà all'aumento delle tasse, così come deciso dall'Aggiunta regionale. La proposta di legge numero 9 è approdata per l'esame preliminare in prima commissione consigliare. Il presidente dell'organo collegiale, Roberto Di Pardo, ha assegnato alla componente della commissione Stefania Passarelli il ruolo di relatore. Nella medesima riunione della commissione anche il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 insieme al consolidato per il medesimo anno. L'aumento della tassazione si è reso necessario per ripianare i conti regionali, anche alla luce della iniezione di liquidità proveniente dallo Stato. 43 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per i prossimi tre anni almeno. Cosa accadrà è presto detto. Tutti i redditi superiori ai 28 mila euro avranno un innalzamento della pressione fiscale sino all'aliquota massima del 3,33%. Si tratta di un punto e 20 di aumento per i redditi fino a 50 mila euro, la cui tassazione precedente era al 2,13%, e di un punto percentuale per quelli superiori a 50 mila euro, la cui tassazione era ferma al 2,33%. Da tale aumento il governo regionale si attende di ricavare 17,3 milioni di euro, una variazione di gettito vincolata alla copertura del disavanzo non ripianato rispetto all'esercizio 2021. Purtroppo, scrive l'Aggiunta regionale, nella delibera che ha licenziato la proposta di legge, va richiesto un sacrificio ai contribuenti molisani, consistente nell'applicazione di maggiorazioni nelle aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF limitata all'incidenza sulle classi medio-alte, e cioè quelle a partire dal reddito pro capite di 28 mila euro. Insomma, l'Aggiunta regionale non poteva fare altrimenti, il Governo nazionale ha detto noi vi aiutiamo a patto che voi facciate la vostra parte. Così sarà a partire dal 2024. Si chiude così la storia del bilancio più travagliato della regione molise, il previsionale 2023, che dopo tale aumento delle tasse approderà in aula. Intanto la Grim, la società che gestisce il patrimonio delle acque della regione, ha approvato dall'unanimità il bilancio. Si tratta del primo esercizio sociale, che ha evidenziato un utile di quasi 500 mila euro, 477 mila. La società composta da 66 comuni e da Molise Acque ha dunque chiuso il bilancio, avendo in gestione il servizio idrico, di quasi il 40% degli utenti della regione. Tra le opere strategiche, ha sottolineato il Presidente Massimo Saluppo, si segnala il finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio, per un importo complessivo di quasi 50 milioni di euro. Per quanto riguarda il secondo bando del PNRR, la Grim è risultata la prima società in Italia ad aver adempiuto a tutti gli obblighi entro il 30 settembre di quest'anno. E a Larino attiva un'app che rende possibile la mappa del cimitero digitale per chi la scarica sul proprio cellulare. I cittadini che sono lontani da Larino possono così mettere a distanza un fiore sulla tomba di un proprio caro. Ce ne parla in questo servizio Andrea Nasillo. Aldilapp, un servizio per i cittadini e le loro radici. Un'applicazione che censisce e digitalizza il cimitero di Larino riportando in un gestionale web i dati anagrafici e il numero dei defunti. La loro esatta posizione tramite la geolocalizzazione c'è di più per chi vive lontano la possibilità di mettere a distanza un fiore sulla tomba del proprio defunto avvalendosi di esercenti di Larino. L'app per smartphone è scaricabile gratis. Aldilapp è lo strumento per valorizzare i cimiteri e dare servizi sia a coloro che hanno la possibilità di frequentare il cimitero servizi come la possibilità di trovare un defunto con facilità in quanto tutte le aree del cimitero di Larino sono state geolocalizzate dopo il censimento e da possibilità a tutti coloro che magari vivono fuori da Larino non riescono ad essere vicini e presente all'apida il proprio caro di essere vicini tramite uno strumento innovativo e digitale come la possibilità di inviare un fiore a distanza perché i fioristi di Larino possono pubblicare gratuitamente e ricevere ordini delle loro composizioni fino ad arrivare a servizi di pulizia della lapide dove chi non ha la possibilità di tenere cura del luogo di sepoltura può farlo attraverso Aldilapp. Un atto concreto che mette a segno obiettivi importanti in primis la garanzia di un censimento e poi la mappatura reale dell'area che permetterà una programmazione costante ed adeguata di interventi che vadano a migliorare il cimitero. Era da tempo che noi volevamo rendere il nostro cimitero più dignitoso quindi rispettare anche i nostri defunti e quindi con questo sistema abbiamo cercato sicuramente di efficientare tutta l'organizzazione e la gestione del nostro cimitero tra l'altro abbiamo anche nell'ultimo anno realizzato i nuovi loculi stiamo cercando già in essere un altro progetto di riqualificazione delle mure di cinta del cimitero e tutte le iniziative per riqualificarlo. L'intento dell'amministrazione di Larino partendo da una nuova struttura per loculi già realizzata sarà quello di costruirne altre di riqualificare le strutture fatiscenti di migliorare la percorribilità dei viali interni e rifornire il cimitero di scale metalliche per il posizionamento dei fiori. I prossimi 1 e 2 novembre nella ricorrenza della festa di ogni santi e dei defunti a supporto della fruibilità del sistema Aldilap nella stanza del custode ci sarà un operatore a disposizione dei cittadini. Per quanto riguarda il telegiornale ci fermiamo qui diamo uno sguardo ora agli online giornali che troveremo in edicola oggi con la rassegna stampa. Cominciamo dal giornale del molise.it Campobasso la donna aggredita dal topo conferma, gli avvocati ribadiscono chiederemo il risarcimento danni è sempre in città chiuso il residence delle prostitute indagati i proprietari 120 giorni in regione bilancio e sanità per il presidente Roberti arrivano i primi risultati su termoli online.it l'apertura è per la recensione per rendere più sicuro l'eco parco mentre andiamo a vedere la prima pagina dell'eco alto molise e vastese benemerenze agli angeli della pandemia consegnati gli attestati SAIA esempio di altruismo e abnegazione parliamo ovviamente di Agnone e poi vi segnalo il Consiglio dei Ministri Calderoli annuncia il disegno di legge sulla montagna valorizzare i territori riducendo divari e assicurando servizi ai cittadini sempre sui comuni di montagna dalla regione contributi alle famiglie per le rette scolastiche e poi la seggiovia di Monte Capraro fuori uso a causa di una frana siamo alla lettura dei quotidiani cominciamo con primo piano che apre sui conti in sofferenza altri 200 milioni dal governo nella bozza della legge di bilancio è previsto uno stanziamento di 20 milioni per 10 anni si aggiungono ai 40 già concessi con la manovra da Palazzo Chigi stop a ulteriori debiti questo l'out-out del governo la regione dovrà rispettare una serie di prescrizioni cefaratti giusto basta gestioni alla Carlona e poi nel taglio centrale prostituzione sequestrato il residence del piacere una struttura ricettiva nel cuore di Campobasso i gestori denunciati per favoreggiamento assicuravano l'ingresso dei clienti senza controlli anche qui risalto sulla vicenda del topo i legali dell'anziana presentano il conto alle case popolari andiamo a vedere i quotidiani nazionali cominciamo dal Corriere della Sera affitti pensioni le novità ovviamente della manovra più difficile lasciare il lavoro le misure su maternità fisco e cinema la bozza tabacco più caro giù il canonerai sale l'imposta sulle case all'estero critiche dall'opposizione ma in questa impaginazione c'è sempre la questione israelo-palestinese in primo piano l'Ital-ONU su Hamas ira di Israele via Guterres il segretario generale aumentano i raid su Gaza e questa è la foto della disperazione dei palestinesi dopo un nuovo attacco da parte di Israele così il Corriere della Sera andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica anche qui c'è una doppia impaginazione sulla politica interna e sulla fronte della guerriglia sulla striscia di Gaza la beffa delle pensioni i conti non tornano promesse elettorali deluse la bozza della manovra inasprisce quota 104 e la penalizza parliamo ovviamente di pensioni sarà più difficile lasciare il lavoro per millennials l'orizzonte sono i 71 anni con assegni magri proroga del taglio del cuneo fiscale scure sugli enti locali ma per cronaca vi ricordo che cosa è successo in Francia con l'aumento di un anno dell'età pensionabile qui siamo addirittura a 71 Meloni Blindata e Gian Bruno lascia il video Mediaset meno 6 in borsa e la posizione in questo momento di Israele sull'ONU attacca Israele Hamas ha le sue ragioni dura replica del ministro degli esteri israeliano si dimetta sono i nuovi nazisti all'arme degli Stati Uniti Hezbollah e altre milizie hanno il via libera dell'Iran per colpirci come vedete insomma resta sempre molto complicata la situazione tra Israele e Palestina non c'è una visione generale è ovvio che sia così della questione quando due fazioni si scontrano è difficile capire dove sia la verità e la ragione andiamo sulla stampa vedete quasi tutti i quotidiani titolano sulla manovra meno pensione più tasse è il titolo del quotidiano di Torino penalizzato l'addio anticipato al lavoro alzata l'età per le donne case fumo e pannolini imposte su confermato il taglio del cuneo fiscale nel 2024 aumentano gli aiuti per le mamme e le famiglie numerose e poi scontro all'ONU Israele attacca Guterres il segretario generale la strage nel kibbutz non è arrivata dal dal nulla l'ira di Gerusalemme deve dimettersi e c'è questa foto che insomma si ripete sui quotidiani ora la rivediamo è anche sul messaggero molto più evidente invertito qui l'ordine della diciamo così impaginazione l'orrore di Hamas ONU diviso da Guterres alibi ai terroristi Israele insorge si dimette si dimetta la Jihad arriverà in Europa la minaccia invasione di Gaza Netanyahu pressato dai generali ma gli Stati Uniti frenano sul piano di Tel Aviv come vi dicevo questa foto di questa donna una anziana la rapita alla guzzino pace a te dice quando è stata rilasciata e rivolgendosi verso uno dei rapitori chiamiamola così dei Hamas lei lo saluta inviandogli un messaggio di pace ma pronunciando una parola famosa nel loro diciamo linguaggio e cioè lo saluta con shalom la lezione della pacifica ebrea rilascio stretta di mano al miliziano al quale ha indirizzato come dicevamo il saluto di pace e poi la politica interna manovra la stretta sulle pensioni anticipate madri lavoratrici aumenti e congedi sigarette più care come vedete insomma diciamo le notizie sono sempre le stesse ma più o meno edulcorate o più o meno ingigantite insomma le letture sono a seconda chiaramente dell'orientamento del giornale vediamo la prima pagina di avvenire conferenza episcopale welfare ostacoli il titolo riepilogo sulla manovra nuovi acquisti di età nuovi requisiti di età per il bonus asili nido spunta il tetto a 3.000 euro per lo sgravio contributivo alle madri restano gli interventi sulla famiglia e sulle donne ma da 61 anni prime bozze del testo della manovra di bilancio 2024 sulle fasce deboli molte misure sono però un rebus dice il quotidiano della CEI e poi Israele è ancora in stallo la liberazione degli ostaggi a Gaza sei ospedali sono al buio così la stampa di Torino scusate avvenire vediamo il fatto quotidiano che titola su una notizia insomma che ha avuto una certa eco ieri e riguarda le indagini su sgarbi e sulle sul cachet che viene preso dal sottosegretario sgarbi indagato ecco i suoi favori retribuiti rimborsi sospetti clip antiparcheggio per 54 mila euro premio alla biennale a un artista che lo paga e nave militare per presentare un libro tutte queste sono le voci sottosegretario a gettone e i gettoni fanno circa 300 mila euro reati fiscali nulla tenente deve 715 mila euro e fa comprare quadri insomma una situazione piuttosto complicata quella del critico d'arte che campa di questo insomma delle ospitate tv sostanzialmente e non solo pensioni peggio della Fornero rincari e regali agli assicuratori è il titolo sulla manovra del fatto quotidiano vediamo il manifesto diritto di vetro con il solito gioco di parole da parte del quotidiano comunista relativo all'ONU il leader dell'ONU Guterres condanna Hamas e chiede di liberare gli ostaggi ma denuncia 56 anni di occupazioni soffocante ed evidenti violazioni della legge umanitaria a New York esplode l'Israele che chiede al mondo la sua testa giustifica quei nazisti e poi manovra più tasse e più tagli il titolo del manifesto secondo cui si rischia una crisi sociale libero invece l'Europa ci rifila un'altra tassa verde come vi dicevo poco fa giornale diciamo così piuttosto vicino alla maggioranza di governo insomma senza il piuttosto che sposta l'asse parla di Europa ci rifila un'altra tassa verde bastonata con i voti di PD e Movimento 5 Stelle facevamo il riciclo della plastica ora ci chiedono il riuso più spese per le imprese italiane a rischio 110 mila posti di lavoro ecco il titolo sulla manovra ecco la manovra bene il cuneo ma sulla casa sulla casa abbiamo visto cosa ne pensano gli altri giornali l'ONU dichiara guerra a Israele Guterres popolo palestinese soffocato i giornalisti degli Stati Uniti il conflitto ha svegliato noi dem e così la prima pagina di Libero andiamo a vedere il secolo d'Italia la follia del professore di sinistra cambiare nome al Natale Istituto Universitario Europeo l'ex festa di Natale deve perdere il riferimento cristiano cercasi nuovo nome per il 25 dicembre è questo signore che vediamo è praticamente l'istituto universitario europeo che ha sede a Fiesole e ha proposto questa bagianata andiamo sul sole 24 ore quotidiano di Confindustria per le notizie economiche taglio al cuneo manovra da 9,9 miliardi arriva la stretta sulle pensioni anticipate il taglio al cuneo è da 9,9 miliardi la manovra è superiore ai 20 andiamo a vedere nel dettaglio la bozza del provvedimento conferma la riduzione già prevista per il 2023 per il fisco accesso più facile ai conti correnti del debitore per recuperare i crediti anche il sole 24 ore riporta la polemica che si è aperta all'ONU richiamano Israele rispetti i diritti umani le notizie sportive sulla gazzetta dello sport a tutta Inter è il titolo vola anche in Champions Sanchez si sblocca Ciala domina e segna il rigore decisivo Salisburgo battuto Inzaghi già agli ottavi se vince in Austria l'altra partita di Champions è un'altra impresa compiuta invece dal Napoli che spugna Berlino Raspadori Berlino ancora azzurra il Napoli batte l'Union ora è secondo da solo e poi ovviamente ci sono le partite di stasera che riguardano Lazio a casa Feyenoord in un clima bollente Sarri serve ferocia e Milan Leao fa Mbappé più complicata la situazione e la gara dei rossoneri Pioli ha bisogno del vero Rafa per non complicarsi la vita anche Ronaldinho lo carica il numero 10 è meritato e insomma la sfida di oggi quella accattivante è Paris Saint Germain Milan si gioca alle 21 andiamo a vedere in chiusura di quotidiano la vicenda del calcio scommesse tonali dieci mesi niente europeo sia al patteggiamento venerdì Zaniolo in procura a Torino e dunque si chiude anche la posizione di Tonali dopo quella di Fagioli che ha patteggiato torniamo ai quotidiani locali con il messaggero dell'Abruzzo appalti sanità raffica di avvisi e assistenza a Chieti chiusa l'inchiesta sui presunti favori dell'imprenditore Marinelli tra i 13 indagati anche politici eccellenti Febbo Paolucci Di Stefano e Bocchino e passiamo alla pagina locale del centro meglio alle pagine locali del centro che su tutte e quattro le edizioni ricordano che oggi è la giornata mondiale della pasta e lo fanno ovviamente con la pasta per eccellenza di Abruzzo un giorno speciale per una pasta speciale ottima per noi ottima per l'ambiente insomma è un redazionale sulla pasta De Cecco e con questa notizia chiudiamo anche l'edizione di oggi della nostra Rassegna Stampa dandovi come sempre appuntamento per i nostri telegiornali da parte mia e della redazione l'augurio di una buona giornata è tutto grazie e arrivederci Grazie 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 Grazie.